Festival del gol, Benzette a Morrodoro con il San Nicolò che nel finale riesce a spuntarla sul Pineto nel derby della quarta giornata. La formazione di Amaolo in vantaggio di due reti si fa prima riacciuffare e poi superare con un rigore che fa discutere. Ma andiamo con ordine. Secondo derby stagionale per entrambe le compagini, solito 4-2-3-1 per Luca Campanile che lascia in panchina Capitan Petronio e si affida al tridente con Chiacchiarelli di Benedetto e Maisto alle spalle della prima punta tedesco. Daniele Amaolo conferma il 4-3-3 recuperando della quercia in difesa e spostando Pezzotti in avanti nel tridente con Gragnoli e l'ex Bisegna. L'altro ex dell'incontro, Napolano, parte invece dalla panchina. Pineto che parte subito forte, al nono sfiora il vantaggio con De Santis che si immola sulla linea a ricacciare la velenosa punizione di Bisegna. È il preludio al gol pinetese che arriva al diciottesimo e porta la firma di Pezzotti. Intuizione di Zane che vede l'ex capitano della Samb sulla sinistra e lo serve. Pezzotti brucia sullo scatto ondiaie e insacca all'angolino opposto per lo 0-1. Il Pineto spinge e al ventesimo Bisegna sfiora il raddoppio su punizione sugli sviluppi del corner, poi esposito calcia al lato. L'avvio del Pineto è bruciante e al ventiquattresimo i biancazzurri adriatici mettono a segno il 2-0 con Gragnoli che raccoglie l'invito di Mariani e di testa spedisce la sfera in fondo al sacco. Dopo il raddoppio tre minuti di blackout per il Pineto che dal 2-0 si fa rimontare vanificando tutto quanto di buono fatto fino a questo momento. Prima al ventinovesimo Maisto se ne va sulla destra e supera con un pallonetto Giacchetta accorciando le distanze. Poi al trentunesimo Di Benedetto in contropiede sorprende la difesa pinetese e completa la rimonta. La gara è accesa e godibile con le due squadre che si danno battaglia a favore dello spettacolo. Nel finale di primo tempo si passa dal possibile 3-2 per il San Nicolò con Maisto che al quarantesimo raccoglie il corner di Chiacchiarelli ma schiaccia troppo con la sfera che si impenna al 2-3 in favore del Pineto che si concretizza al 42-esimo quando sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Bisegna Pezzotti, il migliore in campo, raccoglie il filtrante di Gragnoli firmando la doppietta personale. In avvio di ripresa Campanile sostituisce Belchef con Fabriani e Chiacchiarelli con Massetti. La mossa si rivela vincente. Infatti proprio il neo entrato al nono firma il 3-3 con una semirovesciata da applausi. Euro goal per il classe 96 che trascina il San Nicolò che rientra in campo con un altro piglio e complice il calo del Pineto ora insiste e al diciassettesimo sfiora il poker. Ancora Massetti in contropiede costringe Giacchetta al miracolo coi piedi. Soffre ora il Pineto che non è più quello del primo tempo e il San Nicolò prende campo. Al 24esimo Napolano è provvidenziale sulla linea a ribattere il colpo di testa di Moretti, poi Cala spedisce alto. È un vero e proprio derby senza esclusione di colpi, ma per deciderlo nel finale serve un episodio. Siamo al 43esimo quando sugli sviluppi del calcio piazzato di Petronio il direttore di gara Panettella sanziona con la massima punizione un presunto fallo di Pepe su De Santis tra le proteste pinetesi. Dagli undici metri Maisto spiazza Giacchetta e regala la gioia dei trecenti al San Nicolò che può festeggiare la seconda vittoria consecutiva. Tanta amarezza invece in casa Pineto che incassa la terza sconfitta in quattro partite. Mister Campanile una vittoria ottenuta con le unghie e con i denti qui a Morrodoro contro il Pineto un derby giocato in maniera equilibrata da ambe due le squadre con il San Nicolò che è uscito soprattutto nel secondo tempo, ha avuto il merito di crederci fino alla fine. Sicuramente diciamo che abbiamo approcciato male la gara perché volevamo partire sicuramente in maniera diversa siamo andati sotto di due gol e credo non so quante squadre riescono a recuperare in un tempo due gol ci siamo riusciti, li siamo andati sotto quindi abbiamo fatto altri due gol quindi penso che è stata una vittoria voluta, cercata soprattutto una vittoria di cuore rispetto invece a domenica scorsa dove abbiamo espresso pure un calcio migliore però sono soddisfatto veramente di tutti i ragazzi che mi stanno dando il massimo riescono a raschiare ogni energia possibile e quindi il merito va solo ed esclusivamente a loro. Mister Amaolo, quanto rammarico c'è per questa partita in cui avete giocato un ottimo primo tempo spingendo tantissimo con Pezzotti e Bisegna e poi avete un po' vanificato nella ripresa? Sì, un'analisi esatta, secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove meritavamo di stare in vantaggio con un margine più ampio perché magari abbiamo avuto almeno 5-6 opportunità importanti e abbiamo rimesso in gioco tutto in due minuti per due errori fatti da parte della mia squadra e rientrati in spogliatori un 3-2 e ci si poteva aspettare un ritorno del San Nicolò così è stato e sicuramente nel secondo tempo non abbiamo fatto bene, siamo un po' indietreggiati un po' troppo così abbiamo difeso troppo passi e poi c'è venuto fuori quell'Eurogole di Massetti abbiamo provato un po' a fare qualche ripartenza ma non ci siamo riusciti forse in quel momento il risultato di pareggio era il risultato più giusto noi abbiamo fatto benissimo il primo tempo, il San Nicolò bene il secondo l'occasione del rigore secondo me è un po' inciso su risultato un rigore un po' troppo alla leggera perché c'è stato non appena neanche un minimo di contatto in area quando in precedenza ne abbiamo subiti due in area avversaria e non è stata presa nessuna decisione quindi ripeto valuto l'arco dei 90 minuti il risultato di pareggio è il risultato più giusto